Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Molise TV. Iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa leggendo insieme le notizie del quotidiano del Molise. Gamme e zuccherificio, corsa contro il tempo, doppio incontro in regione per individuare le possibili soluzioni in favore degli operai. Passiamo alle notizie del taglio alto, scontro frontale fra auto e pulmino pieno di turisti, il bilancio di sei feriti, brutto incidente stradale alle porte di Venafro, Isernia, smaltimento rifiuti speciali, due arresti e 13 denunce e poi 10 persone intossicate dal gas mentre preparano dolci. La tragedia è evitata all'Opara. Attualità edilizia sull'orlo del Baratro, l'allarme del Lance, Pozzilli, studio Neuromed sull'estasi, una droga mortale. Campomarino, bomba in pizzeria, il titolare, grazie a chi ci è stato vicino. Giudiziaria in tre cifra informazioni politica, oggi udienza preliminare. E poi, dopo il boom di presenze per i casting del nuovo film del regista molisano Saverio Piunno, Selfie, tenutisi a Campobasso presso la sede di Molise TV, oggi si replica a Termoli. L'appuntamento è dalle 10 alle 13 presso la Galleria Civica. Proseguiamo adesso con lo sport serie D. Gli anni, lupi ambiziosi, è possibile puntare al vertice. Termoli, corsa contro il tempo per salvare il titolo sportivo. Agnone, Granata, non idea, Albino Fazio per sostituire Ricamato. E continuiamo il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano online futuro Molise. In primo piano leggiamo Venafro frontale tra un minibus e un'autovettura sulla strada statale Venafrana. Tra le sei persone ferite, tre sono gravi. E ancora cena al Galà del Molise all'Expo 2015. Senza piatti regionali, altre regioni come il Trentino non avrebbero mai inserito piatti extra regionali in un evento di tale importanza. E poi, Iorio, la sanità molisana non è mai stata disastrata così come adesso. Quanto durerà ancora il limite di sopportazione dei molisani? Andiamo avanti leggendo insieme le notizie di primo piano Molise. Tracollo dell'edilizia. In cinque anni hanno chiuso 339 imprese. Da gennaio a maggio 2015 commesse pubbliche giù del 63,8%. Lance e allarme sociale serve un piano di piccoli interventi. Impietoso il report dell'associazione che denuncia i nostri. Sono dati, non interpretazioni. Nel taglio alto leggiamo la sicurezza dell'Expo nelle mani del superpoliziotto molisano Luigi Di Clemente. Il dirigente coordina l'ordine pubblico dell'esposizione. E poi Santissimo Rosario. Il comitato chiama i carabinieri per bloccare il trasferimento. Il tarra soppato, anche i talli di ortopedia. E ancora filiera avicola. Sul tavolo due opzioni per il futuro. Privato, cooperative, sindacati, operai chiedono di fare presto. Ieri il punto con l'assessore Facciolla. Lunedì il summit allargato al governatore. Andiamo avanti con una notizia relativa alla zona di Lupara. Intossicati dal monossido mentre preparano i tarra lì per Santo Antonio. Sei persone salve grazie al 118. Per tutti è stato necessario il trattamento iperbarico al Vietri. Ancora in tribunale a Campobasso l'inchiesta sulla politica e informazione. Gli indagati del sistema Iorio questa mattina davanti al GUP. E poi un ennesimo incidente a Venafro frontale in città. A sessantenne perde il controllo dell'auto e finisce contro un van di turisti. Continuiamo il nostro appuntamento con una notizia proveniente dall'Abruzzo. In particolare dalla zona di Vasto. Carenza idrica, l'acqua della diga di Chiauci solo fino a Ferragosto. E adesso leggiamo le notizie sportive. Campobasso, Ianni, vice di Cappellacci. In questa piazza contano aspetti caratteriali. Domani il verdetto a Termoli. Situazione drammatica di Martino. Potrebbe essere tardi per la D. E in panchina ad Agnone stop per Max Agovino. Strada in discesa per Perrotti. Ma c'è D'Ambroso. Proseguiamo il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano online in Forma Molise. Terminus formazione, il catalogo dei corsi. Ordine dei giornalisti. Santimone e Cimino premiano Domenico Gianrusso. Poste italiane, nuove possibilità di inserimento lavorativo per laureati. Al via il casting per il film di Alfredo Arcero. Il viaggio si cercano attori molisani. Grande successo per i borghi della lettura al centroafra di Larino. Grecia riapre le banche. Dopo 20 giorni Atene paga i creditori 6 miliardi di euro. E andiamo avanti con le notizie della Gazzetta del Molise. La prima pagina della Gazzetta del Molise è titolata 18 mila euro per una cena all'Expo Molise. Per non mangiare molisano, 180 magna magna si sono seduti a tavola. L'Oscar del giorno è stato assegnato ad Antonio D'Alessandro, mentre il tapiro a Domenico Dinunzio. Proseguiamo con la lettura delle pagine interne. A pagina 2 vediamo fallimento inatteso. Il progetto puntava al miglioramento del rapporto tra i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni. Risolto il rapporto convenzionale con l'Università per il sistema telematico Molise, in quattro anni sono stati rendi contati solo 500 mila euro. E poi è edilizia. Senza commesse il settore sta morendo. Torna a denunciare la situazione in essere il presidente del Lance, Umberto Uliano. Proseguiamo con la lettura delle notizie di pagina 3. Expo il menù delle polemiche, una cena a Milano per politici, presidenti di enti, dirigenti, consulenti che di Molisano non aveva nulla. E nel taglio basso l'intervento, secondo me, ci vogliono sfottere. Proseguiamo il nostro appuntamento leggendo insieme alcune notizie relative ai quotidiani nazionali. Iniziamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Il valotta continua dei PM. La procura rilancia la sfida al governo. L'Alto Forno 2 va spento. Inchiesta sull'inquinamento slitta il 23 luglio la decisione del GUP. Il sottosegretario dei vincenti annuncia presso 600 milioni di euro in arrivo il provvedimento. E poi Xlella, l'Europa non fa sconti, via gli olivi infetti, il ministro Martina e il commissario dell'Unione Europea al vertice a Lecce. E ancora mistero sui nostri quattro rapiti in Libia. C'è l'incubo Isis. Il governo per ora sappiamo poco. E nel taglio basso Canosa fu uno scambio di culla. 26 anni fa famiglia fa causa alla regione per 9 milioni. Certezza dal test del DNA. Due dei genitori sottoposti all'esame con l'altra figlia. Andiamo avanti con le notizie di avvenire. Chi accoglie e chi no l'Europa limita le sue quote a 32 mila persone. In Italia la Chiesa agisce e finisce sotto attacco. Ancora ridotto rispetto al previsto il numero dei profughi che saranno trasferiti dopo le proteste a Treviso verso il cambio di prefetto. E poi rapiti in Libia quattro italiani dipendenti di una società di Parma a mistero sui responsabili. Andiamo avanti con le notizie della Gazzetta dello Sport. Un tedesco tira l'altro, la Juve fa shopping in Germania e nel taglio alto mancini a Toir servono punte. Appello al presidente nero-azzurro, abbiamo solo due attaccanti. E con questo è tutto. Grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV. Vi lascio al meteo e buon proseguimento di giornata. Il meteo e offerto da Previsioni del tempo per martedì 21 luglio. Ci sono poche novità nel contesto meteorologico del sud-est, sempre ben protetto da un campo anticiclonico di matrice africana che prolunga questa fase all'insegna del bel tempo e del gran caldo su Puglia, Basilicata e Molise. Cielo quindi generalmente sereno, poco nuvoloso sulle coste e sulle aree interne montuose. Temperature senza particolari variazioni sia nei valori massimi che nei minimi. Ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti nord-occidentali, mari poco mossi, a tratti mosso, l'Adriatico. Campobasso minima 24, massima 35 gradi. Isernia minima 22, massima 33 gradi. Termoli minima 27, massima 31 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei. Acconsegli assegni, spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.